Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. Aria molto fredda proveniente dal nord Europa ma addirittura di estrazione polare ha investito e sta investendo in questi giorni tutto il nostro territorio, tutta la penisola italiana e continuerà così anche nella giornata di domenica dove saremo raggiunti da un impulso di aria particolarmente fredda che andrà a formare una circolazione depressionaria fra il centro nord dell'Italia portando a partire dal pomeriggio di domenica una maggiore instabilità atmosferica con dei rovesci, delle piogge qua e là sparsi sul nostro territorio e addirittura delle spruzzate di neve oltre 1300-1400 metri di altitudine tutto in un contesto di temperature davvero molto fredde per il periodo. Cosa accadrà invece durante la settimana sui nostri territori? Vedete che cambierà poco, infatti saremo sempre raggiunti da impulsi instabili provenienti dal nord Europa. Ho indicato una settimana molto fresca e all'insegna dell'instabilità quindi non ci sarà maltempo continuo ma sicuramente ci sarà occasione per piovaschi così come anche per delle schiarite in un contesto più marzolino che di fine aprile. Questo appunto dovuto anche alla formazione di una circolazione di bassa pressione che continuerà a richiamare dei correnti dai quadranti orientali portando questa decisa variabilità. Evoluzione del tempo per la giornata di domani domenica che vede una giornata inizialmente poco o parzialmente nuvolosa ma già dalla tarda mattinata ho indicato nubi in aumento saremo appunto raggiunti da quell'impulso di aria fresca instabile che vi dicevo in precedenza che nel corso del pomeriggio ma soprattutto in serata porterà qua e là dei piovaschi sul nostro territorio e come vi dicevo in precedenza anche delle spruzzate di neve oltre 1300-1400 metri di altitudine. Sarà abbastanza simile la situazione anche nei nostri settori più meridionali del nostro territorio dove avremo un graduale aumento della nuvolosità e anche qui nel corso del pomeriggio sera saremo raggiunti da dei veloci rovesci sparsi qua e là nella zona della medio-bassa valle seriana e del lago di Seo temperature molto fresche per il periodo con massime che non andranno oltre i 12-13 gradi nella città di Clusone venti freschi e anche intensi in montagna zero termico quindi zero gradi nelle ore c'entra la giornata intorno ai 1400-1500 metri di quota. Vediamo ora invece il dettaglio per la settimana ho indicato nella giornata di lunedì una giornata particolarmente rigida oserei dire quasi invernale temperature intorno ai 4 gradi di minima e massime che faticheranno andare oltre i 6-7 gradi quindi davvero molto molto freddo nella giornata di lunedì zero termico intorno ai 1300 metri di altitudine fiocchi di neve che potranno raggiungere addirittura al mattino quota 800-1000 metri. Nel corso del pomeriggio avremo un graduale miglioramento del tempo con qualche occhiata di sole appunto possibile dal tardo pomeriggio martedì cambierà poco molto fresco temperature fra 3 gradi di minima e 9 gradi di massima quindi si batterà i denti sul nostro territorio zero termico ancora molto basso intorno ai 1300 metri di altitudine indicato nel pomeriggio qualche isolato piovasco e ancora una volta qualche fiocco di neve qua e là oltre i 1300 metri di altitudine mercoledì una giornata all'insegna della variabilità con una minor probabilità di piogge temperature minime intorno a 1-2 gradi quindi quasi prossime allo zero al primissimo mattino nottetempo massime che saliranno di qualche grado intorno ai 12-13 gradi di massima zero termico in risalita a 1700 metri di altitudine giovedì e venerdì saranno due giornate molto simili nubi alternate a schiarite qualche occhiata di sole ma anche possibilità specie nelle ore pomeridiane di isolati piovaschi sul nostro territorio temperature che cambiano poco rimaniamo sempre in un contesto davvero molto molto fresco per il periodo e per il metri è tutto vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antena 2